Manuel, dici qualcosa. Ciao, io sono Manuel. Scusa, solo una domanda tecnica. Chi è che ha il cellulare che fa? Dio, è un coagno che spigna il cellulare. Eccolo, sentivo di dietro. Di solito il cellulare fa un rumore strano. Io metto quello aereo per isolarlo, invece c'era qualcuno. E' qualche gnocca. Mi ero dimenticato, non lo so. Parla della gnocca adesso, fatti una domanda e rispondi. Parla della gnocca. Parla della gnocca. C'è anche il sito da dire. La band è famore dell'omosessualità. Il batterista della band è omosessuale. Il sito è. Tutti i soldi che ti do. Con tutti i soldi che ti do non sei neanche il nome del sito. Porca miseria. Il sito di Rodi che è? Come si chiama? www.reloadedhr.it Ma scusami, domanda. Sul sito della tua band sei l'assistente. Non è un proprietatore di Inter. Si vedono i calzini bianchi. No, porca p***a. Non si vedono bene. Le gambe le ho tagliate. Ecco, io ci ho fatto una fatica a tenerle attaccate. Mi dica lei. Ah, osti. Mentre parlavi si suonava, no? No, no, è partito un leggero tappeto ma l'hanno tolto subito. Che bello si mette. Si sta provando. Ecco. Allora. Ci abbiamo la gnocca. Adesso questo gnocca non se ne vede in questo bel posto, però speriamo che vengano a trovare dopo. Perché l'hardlock tira la gnocca di fondo. E allora parlate della gnocca. E' sempre ben accetta ai concerti. La gnocca è sempre ben accetta ai concerti. La gnocca è sempre ben accetta ai concerti. Sì, è sempre andata piuttosto bene. E' comunque un genere che attira, diciamo, il gentil sesso. Poi siamo tutti dei bei bagai, quindi voglio dire, è normale. Non so che Enrico ti apposa a queste cose. Meno male. No, perché quello che volevo dire io, hanno già detto tutti i miei ragazzi, perciò ho capito. E i miei ragazzi. E i miei ragazzi. Non si chiama il tuo sito. Ma io curo la pagina. Ma io curo la pagina. Non sai neanche il tuo nome del sito. Ma io curo la pagina. Ma la curi vuol dire che la guardi o che la curi? No, la curo proprio. Non vale che suoni bene. Meno male che suoni bene. La fortuna tua è quella. Almeno quello, dai, se no... Questi ragazzi. Questi ragazzi. Sono ragazzi. Sono ragazzi. No, la gnocca la tagliamo. La gnocca la mettiamo, fa ridere. Adesso che hai divorziato la mettiamo. Prima no, è merda. Prima no, è merda. Adesso che hai divorziato, mettiamogli un bel gnocca. Prima no. Cagare. Ecco, posto. Ma vedete, ho il mano al microfono. Vedete che tiratea di culo vi do adesso. Adesso.